amadeus ha annunciato ufficialmente la sua uscita dalla rai lasciandosi al festival di sanremo che il popolare game show affari tuoi considerando il notevole successo del programma è improbabile che la rai possa fare a meno di esso nella prossima stagione pertanto si è scatenato una serie di speculazioni su chi potrebbe prendere il suo posto anche se meno complesso rispetto a quello a sanremo stefano de martino è attualmente il nome più quotato per sostituire amadeus nella conduzione di affari tuoi dal 2019 ha dimostrato notevoli capacità nell'intrattenimento rendendo una scelta logica per colmare il vuoto lasciato dal conduttore uscente paolo bonolis potrebbe essere un altro possibile candidato con il ritorno alle sue origini televisive e la sua esperienza nel format anche se le dinamiche del programma sono notevolmente cambiate nel corso degli anni tra le candidate femminili antonella clerici è una delle opzioni considerate avendo già condotto a fare i tuoi in passato e mostrando una certa sicurezza nel suo lavoro francesca fialdini un'altra possibilità grazie alla sua esperienza consolidata e alla produzione del suo programma da parte di endemol che produce anche affari tuoi una scelta più insolita potrebbe essere michela giro con il suo background nella stand up comedy e la sua personalità sfumeggiante potrebbe portare un tocco fresco al programma ciro priello è un'altra opzione che potrebbe portare nuova energia alla conduzione del programma dimostrando le sue capacità nella prima serata rai con the floor infine fabio balsamo potrebbe essere coinvolto come spalla di priello o persino interpretare un nuovo personaggio nel programma aggiungendo un elemento di novità e sorpresa al format in definitiva la sostituzione di amadeus ad affari tuoi offre molte possibilità interessanti per il futuro del programma www.attrop.info.it all'inferno